Si può fare, si può fare, si può prendere o lasciare, si può fare, si può fare, puoi correre e volare, puoi cantare e puoi vincere. I hope the next time you see somebody who is not connecting, that you will go and engage them. Quindi spero che la prossima volta che vi capiterà appunto di vedere che qualcuno è scollegato, tra virgolette, come i racchetti e quindi totalmente sola, appunto spero che vi facciate avanti. Quindi il volontariato non è un talento ma diciamo è tempo, il vostro tempo che donate per dare amore agli altri. E ciò succede tutti i giorni durante appunto le nostre missioni umanitarie con i clown. E non dimenticatevi che il nostro diciamo clown senior aveva a 88 anni, quindi diciamo sono tutti una particolare abilità. È tipico appunto del nostro stile non diciamo far passare nessun test, nessun esame a tutti coloro che vogliono appunto far parte nelle nostre clown tour, nelle nostre missioni umanitarie perché riteniamo che l'evento stesso, l'interazione stessa rappresenta un po' il banco di prova. Queste sono le regole, mettetevi un vestito da clown e venite. La cosa meravigliosa dell'essere clown è che indipendentemente appunto dal personaggio piuttosto che dalla mimica o dal ruolo rimane sempre un personaggio clown, rimane sempre un clown. Quindi potete appunto avere un atteggiamento di questo tipo e pensare e continuare a ripetervi non ce la farò mai, non ce la farò mai, sarà un fiasco. E anche in questo caso siete un personaggio clown, siete un clown. E qualcuno quando fate così, oddio non ce la faccio, non ce la faccio, magari vi punta a te, dal dito e gli dice, caspita proprio bravo. E mi ricordo che una volta in uno dei nostri viaggi, la durata di due settimane, una donna, una partecipante, aveva uno scopino per fare la polvere a seguito. E per due settimane lei spolverava le persone. E alla fine del viaggio era, diciamo, una maestra della spolveratura di esseri umani. E anche per riusciamo a creare un ambiente protetto, nel senso che siamo di solito 30-40 persone tutte impegnate nel fare la stessa cosa, quindi nell'essere clown e condividere questa esperienza insieme. Quindi il gruppo stesso crea un ambiente protetto. Quindi il costume da clown. Numero due, il desiderio di donare il vostro amore ad un'altra persona. per alleviare, sta descrivendo anche la figura della mamma, di una madre. E devo dire che i maschi, quindi la popolazione maschile, è rimasta parecchio indietro rispetto alla figura della madre. e quindi abbiamo ancora molto da imparare. Diciamo che sto cercando di sedurre, nel senso che vorrei appunto sedurre le persone affinché siano in grado di scoprire loro stesse il talento che già possiedono, come descriveva Nebucanzi. E' proprio l'essenza, la natura del momento, dello scambio, che mi consente appunto di alleviare la sofferenza altrui che fa da maestra. Non solo conferenze, non solo seminari, non solo laboratori, ma è l'interazione stessa che fa da maestra. Sì, peraltro sono assolutamente d'accordo con lei, sicuramente il contesto attuale ci, diciamo, priva di questi appunto talenti innati, perché nell'attuale sistema di valori ha deciso di celebrare il denaro e la prevaricazione sugli altri, anziché appunto creare un ambiente comunitario in cui i valori siano diversi. E posso dirvi anche che appunto ho continuato a organizzare queste missioni umanitari per 25 anni, continuerò a farlo perché rimango sempre affascinato da quello che succede ai clown, nel vedere appunto il cambiamento che loro attraversano, in aggiunta naturalmente alla possibilità di alleviare la sofferenza altrui. Perché, diciamo, il momento in cui riusciamo ad allegare la sofferenza altrui è, diciamo, un cameo, è una situazione temporanea, mentre il cambiamento che il clown vive in quella interazione è un cambiamento che fa da vita. Puoi prendere o lasciare, puoi volere, puoi lottare, fermarti e rinunciare, si può fare, si può fare, puoi prendere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare.